C'è un ragazzino che conosco, che a scuola adesso, a fine anno all'esame, dovrà portare per musica un pezzo di trap e quindi lui farà quella canzone del piscio sugli ether davanti alla commissione di esame delle medie. Pensa a te. Pensa a te. Bello. Deo, vorrei inquadrare a te un primo piano. Uncini. Un po' schifato. Pensa se a Leoncino gli chiedono di farla per il personale. Guarda che Leoni ascolta la sfera e basta. Pensa il tuo figlio tra dieci anni. Ma non ci sarà neanche più. Sicuro il signorino lo ascolta, Leoni. Ma sai che la prima volta che ho sentito Cini Cini ero convinto a parlarsi di cinesi? Anch'io. Ragazzi, invece Cini è sempre basso. C'è tanto per far capire il mio figlio com'è la pressa. Cioè, i bambini sono innamorati, non so, delle macchinine, le cose. Lui, il muletto. Il mio è innamorato del muletto. Cioè, quindi capite che... Eh, ma ne passa il tempo. Ha delle basi solide. Arriverà a scuola.